Il tempo stringe il rinnovo contrattuale, si avvicina e l'unico modo per incidere concretamente e apportare migliorie sostanziali è muoversi insieme. Così il NURZIND annuncia lo sciopero degli infermieri in calendario il prossimo 28 gennaio. Sì, noi abbiamo bisogno di stipendi europei, noi abbiamo bisogno di stipendi in linea con quella che è l'Europa, abbiamo bisogno di dotazioni organiche certe, abbiamo bisogno di una valorizzazione di questa professione, cosa che in questo momento nel governo, nella regione è in grado di fare e non fa. Il rinnovo del contratto nazionale collettivo nel settore della sanità, sostengono, è un fatto che riguarda tutti, così come la carenza di infermieri, l'erogazione delle indennità specifiche e infermieristiche, il congedo di paternità, le differenze tra pubblico e privato, senza dimenticare l'aumento delle violenze contro i sanitari ad oggi ancora poco tutelati. Questi, secondo il sindacato autonomo, sono alcuni dei punti che dovrebbero rappresentare la vera emergenza sanitaria. Noi chiediamo che la politica si ricordi di noi non solo a parole. Passati i momenti in cui ci definivano eroi, passati i momenti in cui eravamo importanti, improvvisamente la politica si è dimenticata degli infermieri e si è dimenticata dal punto di vista contrattuale, un contratto che sta andando a rilento, per il quale non abbiamo ancora risorse certe e per il quale sappiamo che le risorse non saranno certe e non saranno sufficienti per coprire quelle che sono le nostre richieste e le richieste per il personale infermieristico. La ASL Sud-Est ha fatto una chiamata per circa 150 infermieri, che sono assolutamente insufficienti per coprire il fabbisogno rispetto ai problemi che abbiamo in questo momento, anche per quanto riguarda l'assenza per le malattie, per i contagi, eccetera, e anche per l'apertura di nuovi servizi, quindi per noi sono numeri assolutamente insufficienti. Se rapportati poi a quelli della Regione Toscana sono ulteriormente insufficienti, sono veramente niente, tra l'altro la cosa che a noi mancano non è che mancano gli infermieri, ma ci mancano anche gli operatori di supporto, per esempio la Regione non dà risposte da questo punto di vista, quindi la difficoltà è veramente oggettiva di portare avanti i servizi, soprattutto dal punto di vista qualitativo tutti i giorni, e questo è la cosa che a noi ci preme maggiormente, portare avanti un servizio qualitativamente importante per i nostri cittadini. Senza infermieri non si fa sanità.